Una variazione è una lente planiforme, posta sopra a blocchi Sony e un effetto leggermente migliore, attrattiva alla lente. Questo dovrebbe emulare, insieme all'NHK giapponese di televisione sosteroscopica, anziché una lente a occhi di mosca, sono semplicemente gli obiettivi della Blocchi. Vi saluto. La frondità con la lente planiforme davanti, aumenta l'acqua, aumenta la migliore posizione della Blocchi Sony. La frondità con la lente planiforme La frondità con la lente planiforme davanti, aumenta l'acqua, aumenta l'acqua, aumenta l'acqua, aumenta l'acqua, aumenta l'acqua. Grazie a tutti. 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 Vi saluto. Grazie a tutti.